Musica Vuoi dimagrire la pancia e chiedi di troppo che non se ne vanno? Sì, ma sarà faticoso? No, anzi, non devi fare nulla. Sembra impossibile, lo dice la scienza. Da oggi abbiamo un nuovo alleato, anzi tre. Secondo l'American Journal of Clinical Nutrition, per dimagrire di più, basta fare queste tre cose. 1. Non bere caffè alla sera. Sembra scontato, ma quante volte dopo cena beviamo il caffè perché ci sentiamo un po' stanchi? Il caffè stimola il metabolismo, ma durante il giorno. La notte invece disturba diversi processi metabolici del corpo. 2. Non usare lo smartphone a letto. Ci mettiamo a letto e diamo un'ultima occhiata ai social prima di dormire. Lo fate anche voi? Sì, sempre, tutte le notti. La luce blu degli schermi LED disturba il ciclo circadiano del sonno e blocca anche il processo brucia-grassi attivato dal corpo nel sonno. Il terzo alleato ce l'abbiamo da sempre, ma non ci pensiamo mai. Per fortuna, di recente, è stato pubblicato uno studio che dimostra i suoi benefici. 3. Dormire un'ora in più. Scusa, ma il detto chi dorme non piglia pesci? Vale sempre, ma c'è un'eccezione. Lo studio è del Dipartimento di Scienze Nutrizionali del King's College di Londra. Dormire un'ora in più al mattino aiuta a dimagrire. Ma com'è possibile? Se dormiamo troppo poco, mangiamo più calorie, in particolare zucchero. Quindi, dormire almeno un'ora in più riduce il consumo di zucchero. Fino a 10 grammi al giorno, cioè 3 chili all'anno. Sono 12.000 calorie in meno, che valgono come 20 ore di corsa. Ma dici sul serio? Sì, e c'è di più, alla fine dico quanti chili si possono perdere. La mancanza di sonno spinge il corpo a mangiare di più e cibi più calorici. Sappiamo tutti che durante il sonno il corpo si depura, ricarica e rigenera. Si prepara per il giorno dopo, insomma. Dormire poco priva il corpo di energia, che poi bisogna compensare. Per questo, chi dorme poco e male, mangia più cibi spazzatura. Lo dimostrano numerosi studi, sia per gli adulti che per i ragazzi. Ah bene, allora metto a letto baby squaletto, subito. Ma io come faccio? Devo lavorare, mica posso dormire quanto voglio. Per chi deve alzarsi presto al mattino, la soluzione è dormire prima la sera. Anche solo un'ora fa una grande differenza. L'importante è andare a dormire entro la mezzanotte e dormire almeno 7 ore a notte. E ora ecco il bonus. Con questi tre consigli si possono perdere fino a 3 chili senza fare niente. Vivi sano, mangia bene e dimagrisci. Ci vediamo al prossimo video per stare sempre trendy e sani, con Simona Vignali naturalmente. Ciao! Ciao!